eccoci qua crotch bind set siamo live buon pomeriggio buon pomeriggio massimo grazie mille ciao danilo tutto bene grazie anche a te come piacere di essere qua grazie ti ringrazio massimo anche perché so che sono dei giorni impegnatissimi cioè ieri ti ho visto all'olimpico eravate all'olimpico no perché ho sentito che diceva che c'era crowley perso per il traffico di roma quindi esatto eravate eravate all'olimpico quindi insomma poi immagino che dopo i sei nazioni sono un po giorni così di tirare bilanci esatto di analisi di tirare bilanci di vedere un po le cose che sono andate bene quelle che sono andate male capire dove dove indirizzare la rotta allora vado subito fuori fuori scaletta perché tu hai detto le cose che sono andate bene le cose che sono andate male io ti ho appena parlato di una scaletta ma la capovolgo subito perché mi è venuto un prurito mentre tu dicevi dicevi così e poi approfondiamo dopo però ti volevo chiedere per quello che riguarda voi l'under 20 bicchiere mezzo pieno o mezzo vuoto perché tutti ovviamente hanno riconosciuto il miglior risultato di sempre dell'under 20 quindi a vedere mezzo pieno però poi c'è anche qualcuno compreso me che ha detto caspita sto anno forse si poteva addirittura vincere i sei nazioni sì vincerlo diventa era una cosa un po impensabile perché il nostro movimento deve restare con i piedi piantati per terra non volare troppo alto c'era la possibilità di fare meglio perché l'abbiamo visto tutti ci sono due partite che secondo me le abbiamo giocate alla pari con Francia e Inghilterra anche se la Francia sappiamo che in quella partita mancavano alcuni elementi importanti però l'Italia ha dimostrato che soprattutto nei primi otto uomini può dire la sua con chiunque e quindi fa molto piacere il bicchiere lo vedo mezzo e mezzo vuol dire che siamo arrivati quello che dovevamo fare l'abbiamo fatto abbiamo vinto due partite con due squadre che sono inferiori a noi e chi più chi meno Galles Galles un po meno la scolzia molto di più l'abbiamo dimostrato sul campo e tutti i punti poi che sono arrivati invece in più dalla classifica perché ce li siamo meritati perché abbiamo fatto anche con l'Irlanda nonostante l'Irlanda sia una grande squadra lo riconosco è superiore a noi in certi reparti è sicuramente migliore però abbiamo dimostrato che se vogliamo possiamo mettere in difficoltà in certe situazioni in certe aree del gioco e quindi va merito ai ragazzi di aver fatto due punti con una squadra forte che ha fatto il grande slam assolutamente assolutamente tra l'altro hanno fatto il grande slam sia tra i ragazzi che nella senior quindi insomma il che parla magari anche di un sistema no non solamente di una casualità quindi complimenti all'Irlanda ma complimentoni a voi insomma per guardando il nostro complimentoni a voi veramente ai ragazzi allo staff perché poi quando arrivano questi tipi di risultati va accomunato a tutti e devo dire che c'è stato una bella sinergia quest'anno abbiamo lavorato veramente ma anche devo dire anche gli altri anni ma ogni anno sempre meglio e come tutte le cose e tutte le esperienze che fai se dal primo anno a questo abbiamo migliorato tanti piccoli aspetti tante piccole cose sull'organizzazione quindi va merito anche a tutto lo staff anche quelli che purtroppo dico purtroppo perché magari non vengono mai nominati o risultati però sono quelle persone che servono assolutamente perché le cose funzioni certo anzi magari dopo te lo chiedo perché mi piacerebbe sapere un po da chi è composto lo staff dell'under 20 e allora io ho due cose pendenti la prima è una routine che devo fare assolutamente ossia salutare i primi che entrano nel canale perché questa non è una chiacchierata solo tra me e te ma è una chiacchierata col canale quindi saluto mauro che dice quanto bene lo vedrei alle zebbre saluto otto gabriele chiara l'altra chiara simone daniele insomma ci sono un po saluto i primi perché sennò poi passiamo un'ora saluta le gente però un po di ragazzi che fanno delle domande ragazze ragazze che fanno delle domande vi dico subito tenetevele un attimo in conserva perché abbiamo un tempo tranquillo abbiamo un'oretta tranquilla con cui possiamo chiacchierare col coach e e quindi andiamo con un po alla volta se non se non le riprendo adesso le vostre domande le riprendo dopo eventualmente riproponetele se vedete che che le salto e allora massimo io di solito la prima domanda che faccio a tutti i ragazzi che vengono qua per adesso in questo spazio no non è vero che sono venuti solo giocatori è venuto anche casellato i pipo frati quando abbiamo fatto colorno e la prima domanda è tu ti ricordi il tuo primo giorno di rugby ma proprio il primo la prima volta che hai toccato una palla ovale è chiaro sì sì ma lo ricordo io io ho iniziato a giocare a rugby qui ad arqua dove abito ancora eravamo alle scuole alle scuole medie ed è venuto l'ello salvan che è stato il mio mentor il mio il primo che mi ha portato al rugby quello che mi ha insegnato tutto diciamo e ci ha portato al campo eravamo un gruppo di amici al campo di calcio all'inizio poi dopo siamo andati a giocare in quello di di rugby a frassinelle ed è nato tutto da lì la mia passione frassinelle quindi tu hai giocato nel rugby frassinelle eh sì e allora saluto tutti i ragazzi del rugby frassinelle perché devi sapere che li ho incontrati a treviso in occasione della partita con alster che ero andato allo stadio a fare la cronaca e c'era l'under 15 credo e si sono tutti iscritti al canale quindi se non adesso dopo l'ascolteranno e allora salutiamo il rugby frassinelle che segue il mio amico mirco vicentino che le allena il mio ex compagno che ha giocato tanti anni con insieme con me a rovigo quindi che allena l'under 15 allina l'under 15 si ricorderà sicuramente di quell'incontro che abbiamo fatto subito fuori dallo stadio perché qualcuno di loro seguiva il canale quindi lo dice da un padre io facciamo una foto una cosa salutiamo avevano due mi ricordo che nell'intervista vennero due gemelli altissimi che ho detto no ma voi non siete under 15 va bene massimo e quindi ok adesso senza ripercorrere tutta tutta la tua carriera però insomma tu hai avuto una carriera da giocatore incredibile perché ho letto un po di cose insomma hai segnato più di 100 metri in in serie a hai vinto scudetto con rovigo eccetera eccetera ti ti chiedo su questa cosa solamente una cosa che cos'è della tua carriera che ti porti tra virgolette in panchina nel nel tuo ruolo di di allenatore che cos'è che ti è rimasto e che ti rendi conto che fa la differenza quando alleni i ragazzi ma i rapporti umani i rapporti che nello spogliatoio le cose che senti che certe volte non puoi spiegare e che invece poi quando le vivi sai sai benissimo come vanno gestite come vanno prese e sono le cose che hai passato tante volte e che hai vissuto tante volte quindi quando ti capitano le riconosci subito no e quindi queste cose che da giocatore ho vissuto da allenatore capisco le vivo c'è capisco anche in modo dei giocatori che possono essere non solo errori eh ma anche 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 cose fatte bene la gestione un po del del gruppo sono cose che ho vissuto tanto tanto e a rovigo poi in un ambiente un po particolare diciamo perché rovigo anche nello spogliatoio è una è una soprattutto all'epoca che avevamo tante tante persone tanta gente di personalità forte e e ho vissuto magari momenti più o meno belli e quindi le capisci da allenatore certo poi rovigo adesso dirò una cosa che tutti sanno però e e forse in italia la città dove si vive più intensamente il rugby perché io sono di treviso come si vede dalla maglietta della maglietta lì dietro eh però dico sempre treviso una città di rugby padre una città di rugby però ci sono anche altri sport eh tipo io ricordo quando ero ragazzo c'era la pallacanestro molto forte la pallavolo eccetera eccetera invece rovigo mi raccontano gli amici rodigini cioè che è una città proprio che vive attorno attorno al rugby era così anche ai tuoi tempi eh com'era l'ambiente era molto addirittura molto di più perché noi eravamo tutti ragazzi della di di rovigo e quindi eravamo eravamo legati alla città eravamo legati alla piazza eravamo legati a tutti gli eventi che succedevano eh come dicevi tu c'era solo il rugby e allora poi non c'erano neanche tanti telefonini i cellulari quindi poche distrazioni esatto e eravamo un po' così i piccoli i piccoli eroi della città insomma poi è arrivato questo scudetto nell'ottantotto che era un bel po' che si aspettava quindi c'è stata una grande festa da lì sono arrivati anche questi campioni perché nell'ottantotto è arrivato Botta è arrivato Small che era arrivato due tre anni prima poi è ritornato nell'ottantotto ma è ritornato con con molto più nome perché all'inizio è arrivato da giovane che era veramente un ragazzino poi dopo due tre anni è arrivato che aveva già debuttato allora quei Cavaliers che erano quella famosa selezione perché non si potevano chiamare Springboks per il discorso della partita ma era già un giocatore famoso in tutto il mondo adesso certo certo no al tempo della pandemia io iniziai a fare i contenuti su facebook in spagnolo perché io vivo in Spagna poi ho voluto tornare alle origini e ricordo che intervistai Ugo Porta che mi raccontò di come andarono in loro andarono in turnei in Argentina per giocare contro la selezione che non si potevano neanche chiamare Springboks però fondamentalmente loro non si potevano chiamare Puma se gli altri non si potevano chiamare Springboks perché loro avevano fatto una selezione strana per poter andarci tra l'altro in quella finale Scudetto e poi chiudiamo il cassetto dei ricordi andiamo all'attualità ho letto che tu segnasti una meta che viene ricordata col tuo nome anche se non la segnasti tu il che mi fa pensare alla meta di Capuozzo col Galles che non è di Capuozzo e di Padovani è stata guarda simile è stata un contrattacco da una palla di recupero allora calciata da Collodo e non è stata una palla persa no aveva stata calciato uguale anche dal Galles è stato un pallone calciato però ero dentro i miei 22 che ha fatto quel famoso contrattacco poi ho dato la palla ad Ambri Ravanelli che ha segnato in mezzo di palli così tutti ricordano questa questa azione come è meta mia ma poi non ho segnato io in mezzo vicino ai palli mi ricordo di di Ambri come immagino che la meta è la meta di Padovani contro il Galles sarà ricordata per sempre come la meta di Capuozzo e anche il bello del rugby no perché io sono appassionato di calcio e non assolutamente nulla contro il calcio però diciamo che nel calcio non succede cioè nel calcio ti ricordi sempre chi ha segnato chi ha segnato invece nel rugby comunque insomma ecco chi chi l'appoggia alla fine dirò una un po' una cosa un po' retorica però chi l'appoggia proprio solo l'ultimo anello del della è spesso così è anche soprattutto magari certe azioni che si vedono non ricordi benissimo chi l'ha segnata sai che c'è stata una bella sì almeno che non siano proprio azioni individuali ma sono rare insomma ok va bene ti ringrazio per questo così per questo per questo ricordo e io passerei un po' allora al tuo cammino d'allenatore cammino d'allenatore che lo dicevo prima fuori fuori camera scherzando un po' dicevo tu sei uno degli allenatori più vincenti del del rugby italiano perché insomma a rovigo hai vinto se non sbaglio lo scudetto anche d'allenatore eh con nato no a rovigo non ho vinto ho vinto sono arrivati in semifinale purtroppo nel nel 2008 quando ho allenato il rovigo dal 2007 2008 ho fatto devo dire due ottime annate eh creato un bel gruppo belli stranieri e dopo undici anni siamo riusciti ad entrare in semifinale grazie a una meta a Venezia mi ricorderò sempre per tutta la vita con il mediano di mischia che calcia fuori ma da dietro leggo la grande mediano di mischia lo lo placa lo disturba quindi il pallone non è andato direttamente fuori perché lo voleva calciare fuori per far finire la partita e il pallone rotola e l'ala allora che era Sanchez lo riesce proprio a prenderlo con la punta delle dita e giochiamo ma eravamo dentro la nostra metà campo un'azione che dura due tre minuti siamo alla meta per fare il bonus una cosa che se la racconti ce la vedi cento volte è impossibile impossibile quelle cose che succedono nello sport che rendono tanto bello poi alla fine insomma indimenticabili eh infatti credo che sono molto legato a quelle a quei due anni che ho passato a rovigo come allenatore che mi hanno dato tanto perché io venivo da dall'esperienza di badia che ho fatto tre anni tra b e a e poi avevo preso in mano così un po facendo un bel salto nel buio così con la col top allora top ten che c'era benetton calvisano over ma questi squadroni e rovigo quell'anno l'anno prima si era si era salvato era arrivato nono quindi c'era questa diffidenza insomma però abbiamo costruito bene con un gruppo di amici che avevamo fatto dirigenti con alle spalle ancora ancora c'era Zambelli con la Femi CZ il professor Costato che mi hanno dato fiducia abbiamo creato una veramente una bella squadra un bel gruppo di italiani un po argentini perché allora c'erano tantissimi stranieri e abbiamo fatto veramente due anni bellissimi con buoni risultati per non dire ottimi e tra l'altro abbiamo vinto anche una partita in coppa con Dax allora si faceva la challenge e il secondo anno siamo riusciti ad entrare in challenge e abbiamo vinto anche una partita con Dax e è stato due anni che mi sono serviti molto poi per il futuro perché è stata una gestione diciamo di un gruppo professionisti di professionali perché erano praticamente non lavorava nessuno era la prima volta che io allenavo una squadra che professionisti quindi è stato è stata la mia prima esperienza mi è servita molto poi per il futuro allora mi scuso se ti ho detto che avevi vinto lo scudetto con Rovigo mi devo essere confuso nel leggere cosa adesso mi sbaglierò di nuovo però l'hai vinto contro Rovigo quello sì perché perché l'hai vinto a Calvisano eh esatto quello ho vinto due in finale con Rovigo nel 2017 2019 si è vinto due scudetti col Calvisano contro due finali sempre con Rovigo ma in quei cinque anni Calvisano è stata una sfida interna perché poi loro l'hanno vinto una volta io ho perso una finale e ne ho vinte due una semifinale quindi poi nel quinto anno c'è stata purtroppo la pandemia non siamo riusciti ad arrivare in fondo però sono state belle sfide con Calvisano è stata un'altra bella avventura dove mi sono divertito tantissimo ce la ce la fa Calvisano a riprendersi da questa botta che gli è arrivata sì è una bella botta per tutti e credo per tutto il movimento è una è una struttura dove ci dà ancora giocatori anche Botturi e Bozzoni che sono due giocatori dell'under 20 di quest'anno arrivano da Calvisano proprio dal dal lì vicino paesi lì vicino quindi è anche una una fonte di 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 talenti che che potrebbe avere problemi dare problemi a tutti per i prossimi anni comunque io credo che adesso c'è un gruppo da quello che ho capito un gruppo di dirigenti che voglio riprendere dalla serie a quindi se si strutturano bene trovano gli equilibri magari in qualche anno possono risalire e può diventare le strutture ce l'hanno la forza ce l'hanno per farla l'esperienza quindi non vedo perché non dovrebbero ritornare come hanno fatto tante altre realtà speriamo speriamo e glielo auguriamo facciamo un grande in bocca al lupo allora Massimo io eh tra l'altro dico alla chat non vi sto trascurando vedo le domande le vedo adesso inizio a passarle ehm eh al coach come ti chiamano coach mister Massimo come ti chiamano ragazzi Massimo per carità qualcuno qualcuno mister perché in Italia sai che è l'allenatore di calcio lo chiamano mister no però capita anche in in club di rugby che chiamano l'allenatore mister però sì dai è un po' coach coach dal basket da noi col nome dai più semplice esatto va bene allora e quindi vedo le vostre domande adesso ci arriviamo però per aprire il ragionamento sull'under 20 Massimo ti volevo chiedere ehm che cosa perché prima hai detto il bicchiere a metà probabilmente si è vinto le partite che si dovevano vincere si è perso quelle che era pronosticato perdere anche se forse ci sono stati dei momenti in cui si sarebbero potuto vincere però io non sottovaluterei anche quelle vinte perché alla fine è vero che quelle che si sono perse forse si potevano vincere però è anche vero che quelle che si sono vinte si sarebbero anche potute perdere perché insomma entrambe si sono messa a un certo momento perfino quella con la Scozia i primi venti minuti primo tempo non è che fosse proprio tranquilla tranquilla e quindi ti volevo chiedere eh che cosa ci teniamo di positivo e che cosa invece ci portiamo a casa come lezione per per lavorarci su allora di positivo intanto è una una scoperta che facciamo anche dei giocatori che magari conosciamo in parte nelle altre annate ma messi messi in un contesto under 20 poi aspettavamo delle conferme o o o o o delle verifiche sui giocatori che non avevo mai visto io credo sui primi otto uomini abbiamo avuto tante conferme tante sorprese devo dire che hanno fatto un ottimo sei nazioni tutti quanti forse oltre le nostre aspettative anche se voglio essere così dare un giudizio e poi ci sono la parte insomma anche dei tre quarti che hanno qualcuno ha fatto bene qualcuno meno bene ma sappiamo noi all'interno noi dello staff da dove possiamo lavorare dove possiamo migliorare sicuramente le fasi statiche sono andate molto bene sia 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 le mische che che le tue sono andate molto molto bene e addirittura con dei domini imbarazzanti anche da parte di altre nazionali quindi voglio dire lì è un punto forte ce lo teniamo bene in tasca e andremo non solo non lo trascureremo ma andremo anche a rinforzarlo poi sulla distribuzione in attacco sulle scelte che abbiamo fatte forse lì dobbiamo lavorarci di più va fatto anche una in un certo lavoro collettivo è una è una strada un po lunga è un po più difficile però adesso a maggio tra maggio e giugno speriamo di avere più tempo per farlo perché durante i raduni pre sei nazioni i giocatori che erano in francia quest'anno ne avevamo avuti diversi venivano un po qualcuno sì qualcuno no e abbiamo avuto difficoltà poi quando ci siamo trovati tutti insieme nella selezione a lavorare questo tipo questo tipo di lavoro in attacco è una cosa che va fatta più e più volte non può essere una cosa improvvisata e organizzazioni vanno lavorate vanno anche provate e purtroppo per esempio con l'irlanda abbiamo utilizzato tanti giocatori con la francia ne abbiamo utilizzati degli altri perché volevamo anche fare delle un tipo di selezione di verifica e quindi magari abbiamo trascurato un po questo questo aspetto e poi bisogna anche onestamente dire che ogni squadra ha una sua caratteristica e forse noi non abbiamo nel dna proprio il fatto di di riuscire ancora a giocare a giocare un po in tutte le zone del campo riuscire a fare le scelte diciamo essere un po più conservatori su questa cosa quindi va un po spinta anche da da noi dello staff a cercare un po il rischio un po sulle situazioni dove tra virgoletti si può rischiare e cercare un po il gioco questo è un aspetto che che dobbiamo sicuramente migliorare poi viene l'aspetto difensivo dove sull'organizzazione siamo andati bene siamo andati bene ma ancora sull'uno contro uno a questo livello siamo ancora inefficaci siamo sbagliamo troppi placaggi siamo sotto sopra il 20 per cento tra il 15 20 per cento questo è un dato che va abbassato se vogliamo essere ancora più competitivi certo allora una cosa sulla la prima cosa che hai detto che è stata evidentissima a tutti cioè hai parlato di fasi statiche e caspita la mischia del dell'italia quest'anno ma anche l'anno scorso quest'anno si citano sempre i piloni poi non sono solo i piloni però a minu gallorini l'anno scorso genovese rizzoli è stata qualcosa di pazzesco veramente una la guarda e dici vabbè l'italia ha un passepartout per fare un sacco di errori se se servisse perché comunque ogni avanti è comunque mischia rimessa laterale sbagliata è comunque mischia eccetera quando inizia a dominare anche quelle con introduzione avversaria veramente le cose ti si semplificano enormemente in un campo da raggi e io l'anno scorso mi sono subito posto la domanda ma chi è l'allenatore della mischia e ricordo che intervistai rizzoli e genovese assieme tra l'altro che ci raccontarono del lavoro proprio che faceva con cavalieri molto analitico di studio della mischia avversaria eccetera e ho detto vabbè quest'anno si rinizia da zero perché cavalieri è andato negli stati uniti e quindi invece no e allora le mie domande sono due uno chi allena la mischia quest'anno perché non ricordo e due a sto punto non è neanche solo l'allenatore della mischia forse sei tu che hai un segreto quale il segreto è che abbiamo in italia ottimi allenatori della mischia a mio a mio parere e questo ma lo dico con con orgoglio perché spesso e volentieri guardiamo sempre all'estero cosa fanno bene o male invece anche se non voglio essere cattivo non voglio essere cattivo però guardando le zebre e anche la fantastica femminile qualche problemino da da sistemare ogni tanto sì lì sono situazioni un po più che andrebbero un po più approfondite perché non è solo il gioco il allenatore in quel contesto no stavo parlando dell'under 20 che arrivano tanti giocatori che secondo me hanno già lavorato perché in under 20 non non è che formi più di tanto hanno già lavorato hanno già delle basi solide sanno come comportarsi nelle fasi statiche poi viene fatto sì un lavoro molto molto analitico molto preciso e devo dire che eh Cavalieri era un ottimo è un ottimo allenatore perché adesso negli Stati Uniti è un ottimo allenatore degli avanti come lo è Roby Santamaria perché è l'allenatore della della mischia di quest'anno e devo dire che ha sostituito degnamente eh Cuca Cavalieri ha fatto un ottimo lavoro e poi ci sono i giocatori alla fine l'allenatore conta ma il lavoro si vede è è in dubbio come lo fa benissimo anche Mattia Dolcetto per i tre quarti però alla fine ci vogliono sempre un po' di qualità e e devo dire che come piloni sia l'anno scorso che quest'anno abbiamo trovato non solo i titolari ma anche chi è che entra dalla panchina addirittura quest'anno abbiamo ancora più profondità dell'anno scorso su questo in questo ruolo e poi ci sono le seconde linee l'anno scorso avevamo Ortombina Andreoli che erano diciamo i titolari e quest'anno c'era Mattioli e Torrisi che hanno fatto un ottimo sei nazioni quindi andrebbe nominati tutti quelli della mischia perché poi sai benissimo che la mischia non è la prima linea ma sono otto uomini che lavorano e tutti insieme dice il mito che perfino le terze ogni tanto spingano dice così è guai anche perché appena si alzano che magari la palla è quasi fuori si alza la spalla dopo il video devi spingere ma però forse no devi spingere allora io mi sono allargato e sto veramente tralasciando la chat quindi massimo vado un po random adesso anche se il discorso sarà un po meno slegato però prendo delle domande dalla chat ragazzi se le avete fatte riproponetele io prendo la prima che dichiara gianangeli che tra l'altro una patron del canale mi ha fatto anche delle domande dall'altra parte però inizio da questa che mi metti qui chiara le percentuali di placaggi sbagliati si spalmano su tutti i reparti in maniera omogenea o è una cosa maggiormente tra tre quarti o avanti e poi chiede se su questo non potrebbe aiutare in età giovanile un po di lavoro in Italia col 7 che con me sfonda una porta spalancata non so qual è la tua opinione a riguardo sì sì assolutamente no i placaggi vanno contati su tutti i placaggi che facciamo di solito una partita va dai dai 100 placaggi quando si fa poco ai 150 quando se ne fanno tanti e se fai un 20 per 100 potrebbe essere o 20 o 30 insomma sono quelli che sono tanti su una partita sbagliati quindi poi ci sono quei dominanti i raddoppi i placaggi contiamo un po tutto però il placaggio sbagliato è una cosa che va allenata soprattutto noi in Italia alleniamo pochissimo nel mini rugby nell'età giovanile si predilige sempre il passaggio questa cosa ma uno skills importante il placaggio come tutto andrebbe allenato guarda Massimo da tifoso Benetton stasettimana avevo le mani nei capelli perché insomma la meta la seconda meta che ci fanno i Lions nove placaggi sbagliati e tutti tecnicamente orribili perché tutti addirittura o con la testa dalla parte sbagliata o addirittura che arriva con le due mani e poi nella spinta ma da gente forte cioè stiamo parlando di Alessandro Garbisi, Riera, Drago, gente che anche tu hai allenato e che insomma li saprebbe fare i placaggi però poi non è sempre facile tornando al placaggio dico che vanno allenati sempre oltre a in età giovanile anche poi quando siamo così in età che siamo anche vicini alle competizioni perché a me piace soprattutto all'inizio settimana dare sempre un input su questo specifica il seven secondo me è l'ideale perché per chi può farlo è una situazione dove il placaggio sullo spazio e anche la comprensione difensiva di difendere due contro due quando sei sotto numero scalare sono tutte situazioni che nel seven si ripropongono continuamente andrebbero fatte soprattutto per un tre quarti. Certo certo anche se ormai nel seven col rugby moderno ad eccezione dei piloni destri tipo appunto quello dei lions della settimana scorsa che era era un po' anacronistico anche se poi ha comunque fatto una buona prestazione però ecco ad eccezione di quella tipologia ormai tutti i giocatori possono giocare al seven perché a partire da piloni sinistri alla nemer o alla fischetti a tallonatori che corrono come dei matti insomma poi seconda e terza ormai ormai è rimasta veramente solo una posizione nel rugby una volta si diceva il rugby è per tutti i tipi di tipologia però è rimasta una posizione per i ciccioni tra virgolette il pilone destro e nemmeno sempre. Ecco il seven adesso sì dipende poi a che livello se gioco io insomma adesso può giocare tutti però se giocano a livello un po' alto il seven è parecchio impegnativo è parecchio impegnativo soprattutto nella velocità si muovono tutti con rapidità e velocità anche ormai in prima linea così seconda linea ma poi ci sono le alie centri tre quarti insomma che volano ed è difficile poi negli spazi aperti essere competitivi però aiuta sempre. Si è discretamente velocizzato il rugby rispetto ai tuoi tempi no? Allora Lino chiede domanda interessantissima a cui ne aggancio qualche altra vicino che era arrivata prima perché prima qualcuno diceva caspita abbiamo visto l'under 20 con uno stile più basato sui gli avanti mentre abbiamo visto un'Italia maggiore con uno stile di gioco molto chiaro e marcato e se ne è parlato anche anche ieri lo stesso Crowley ne ha parlato. Allora Lino chiede com'è il rapporto con Crowley lui dice anche sia a livello personale che lavorativo e io ci aggiungo le due squadre giocano in maniera molto diversa. È una fase di passaggio o è proprio una linea politica di ogni allenatore sceglie come gioca la sua squadra? No ogni allenatore sceglie come gioca la sua squadra poi bisogna sdattare un po' il gioco ai giocatori che hai ecco ripeto. Chiaro che noi che abbiamo così tanta superiorità davanti a volte per risolvere i problemi ci basiamo sugli avanti non cerchiamo altre soluzioni e la maggiore in questo caso qualche exit dai loro 22 usano le mani non usano più tanto il box forse perché hanno visto che magari fanno fatica a recuperare il pallone e quindi ognuno cerca la soluzione migliore con i giocatori che ha poi io con Kieran ci siamo visti ieri lì alla conferenza stampa ma non abbiamo un incontro diciamo che può essere che viene ogni ogni settimana abitudinario cadenzato sì che possa essere che ogni mese ci troviamo per parlare quindi ognuno ha una sua ha un suo percorso e andiamo avanti così insomma poi così abbiamo qualche incontro casuale dove mi chiede i giocatori e io magari gli parlo di quelli che che secondo me possono aiutarlo nei prossimi anni a andare avanti nel loro percorso ecco questa è un'altra domanda che ho già letto tipo sette volte in chat in più me l'hanno mandata anche in in privato eccetera eccetera immagino che come a tutti gli allenatori non ti piaccia troppo parlare di individualità però la domanda che ricorre più spesso quando si parla di under 20 anche quando io faccio le live me lo chiedono a me danilo secondo te chi è di questi che potrebbe già fare il grande salto eccetera poi dipende anche cosa si intende per grande salto però ecco ci sono dei ragazzi che secondo te sono pronti l'anno prossimo per dire per giocare un buon minutaggio in urc e magari bussare alle porte della nazionale maggiore come hanno fatto menoncello garvisi sì ci sono giocatori che possono farlo adesso è inutile neanche tanto far finta di niente se li sappiamo non è che ci rinventiamo insomma eh addirittura mei questo è il suo secondo sei nazioni che fa ha giocato lui adesso è a clemon ferran quest'anno ha debuttato in champions cup con gli stormers è vero che era una partita ormai per il clemon diciamo persa perché non non aveva ambizioni per passare il turno però fare un'esperienza di quel tipo per un giocatore di 19 20 anni è sicuramente aiuta lui è un giocatore che magari prossimo anno clemoni potrebbe dare dello spazio giocare già in toccatorze quelli che sono qua in italia c'è poi scusa c'è anche odiase che a ionax adesso mi diceva che l'hanno integrato lui era negli espoar l'hanno integrato con la prima squadra quindi loro sbaglio o sono messi bene in classifica no sono primi con esatto quindi potrebbe essere in top 14 e lui è stato integrato con la prima squadra quindi magari trova spazio per giocare o in pro dei due il prossimo anno in top 14 e quelli che sono in urc ho visto passarella che ha fatto qualche minuto quest'anno è prossimo anno è un giocatore benetton quindi viene confermato credo che ci sarà anche qualche altro giocatore ieri ieri è filtrata e filtrata qualche voce che parlavano di marcos gallorini che anche potrebbe approdare in benetton ma lui tra l'altro un 2005 quasi 2006 è 2004 scusa quasi 2005 perché è nato ottobre è nato qualcosa del genere e allora lì ti volevo anche chiedere per i piloni è un po più complicato perché abbiamo visto neculai dominare in under 20 allongi dominare in under 20 rizzoli genovese però poi quando fanno il salto è tutto un altro mondo insomma no la prima linea è veramente uno sport a sé cioè non conta conta poco l'under 20 nel senso che le esperienze hanno dimostrato che hanno qualità gli va fatto un percorso giusto per loro ad esempio rizzoli quest'anno ha trovato un buon minutaggio secondo me con con le zebbre e purtroppo e geno genovese non l'ha trovato non l'ha trovato sono giocatori secondo me che non andrebbero indirizzati anche con il top 10 top 10 in mischia chiusa è ancora un buon un buonissimo livello un buonissimo livello e secondo me chi fa il pilone in top 10 per un paio d'anni vedi e momo asa che è stato al padova o spagnolo hanno fatto un discreto percorso un discreto un buon percorso e adesso sono anche pronti per fare il salto o vedi non è un pilone ma è sempre una prima linea o vedi il percorso di nicotera che che è arrivato già in età adulta e adesso è insomma è imprescindibile in nazionale già jack ha fatto anche il salto del ruolo perché io me lo ricordo tanti anni fa quando era in accademia mogliano che veniva in lui era un invitato veniva a giocare la terza linea quindi ha trovato questo questa fortuna anche di di con cambio di ruolo poi ha giocato a ligo ha fatto diversi anni in prima linea in top 10 quindi poi quando è andato a treviso ha esploso è un merito suo perché è un giocatore di di un generosità unica quindi ha fatto molto bene una domanda che mi è arrivata ancora prima della live nel gruppo dei patreon era la seguente poi si è ripetuta anche qua in chat ne ho già viste due tre su questo tenore sul gioco al piede allora la maggiore un po per scelta ma anche un po per interpreti voi forse per per entrambe le cose sabato la femminile insomma il minimo comune il minimo comune le zebbre anche non calciano quasi niente forse treviso è quella che che lo utilizza più il minimo comune denominatore delle squadre di alto livello italiano è che giochiamo poco al piede e male secondo te c'è una ragione per cui andiamo verso questa direzione anche perché nel rugby moderno invece il resto del mondo ci racconta che forse il gioco al piede è diventata una delle cose più importanti nel nel rugby moderno magari sbaglio io nell'analisi no no il gioco al piede è importantissimo è una fase di gioco ormai anche con queste difese super aggressive e fisiche per avanzare è fondamentale è un'opzione che serve ad aprire spazi e quindi va usato va usato soprattutto tatticamente nel momento giusto per usarlo e poi c'è l'esecuzione che è fondamentale perché poi se la scelta è giusta ma l'esecuzione è sbagliata diventa 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 inefficace però e devo dire che noi l'abbiamo usato non sono così critico verso il gioco al piede perché ad esempio da nove l'abbiamo usato anche bene con 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 competenza abbiamo fatto buoni calci e abbiamo sbagliato qualche ecco qualche calci intusita gioco fermo che c'è c'è scostato così delle situazioni che da da una situazione in attacco che potevano andare a trovare una tussa dentro il loro 22 la sbagliamo il calci intusita ci ritroviamo con la squadra che ha una mischia contro a metà campo sono le cose che vanno vanno corrette e che non è tanto gioco al piede ma capire il momento della situazione dell'importanza che ha quel calcio che che va ad eseguire perché cambia anche l'aspetto della partita questo è l'aspetto da 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 far capire al giocatore su quanto riguarda gli altri faccio un po fatica a giudicare la maggiore mi sembra da quello che ho visto io la usa la usa con competenza ci sono giocatori che hanno dei piedi buonissimi e anche potenti perché sia paolo garbisi che padovani capozzo tutti i giocatori allen giocano bene al piede sono veramente ottimi interpreti poi magari qualche scelta sbagliata sicuramente ma come esecuzione sono dei buoni calciatori nella maggiore diciamo che a parer mio e poi correggimi assolutamente se sbaglio e da una parte una scelta più stilistica e dall'altra e è vero quello che dici tu ci sono degli ottimi interpreti però mentre magari nelle altre nazionali di tier one tutta la tre quarti usa benissimo il piede e addirittura qualche avanti invece da noi magari mancano quei due tre tasselli magari all'ala magari un bruno un jesi un brex che fanno sì che le opzioni siano siano un po ridotte poi dipende anche brex ogni tanto fa dei capolavori assoluti ricordo a treviso con un alster che ti fa quel quel calcio passaggio di esterno quindi non voglio neanche generalizzare troppo sì nace o brex non lo conosco benissimo però mi ricordo anch'io questo questo aspetto su brex di gesi e pier bruno che li conosco benissimo ti dico che hanno ottimi piedi ottimi piedi sanno giocare bene al piede sia per se stessi che per calci lunghi simone gesi ha giocato anche 10 pier bruno l'ha avuto a calvisano poteva giocare anche 15 e migliorato tantissimo sul gioco al piede ti ripeto secondo me come interpreti ci siamo poi va va visto anche nel nella strategia del gioco ecco questo si usa poco il piede è chiaro che non si non si notano ti faccio l'ultima sugli individuali a me c'è un giocatore che affascina tanto per il possibile sviluppo che potrebbe avere che lorenzo pani tu l'hai avuto l'anno scorso io lo trovo un giocatore molto talentuoso ogni tanto così da quello che noi vediamo esternamente vediamo fare un po delle delle cose che sono magari adeguate all'età che ha però però secondo te è un giocatore che che può sfondare a livello alto se non arriva lori e allora si è messi male allora ci ha visto giusto ha tante qualità lo sa anche lui è un gran lavoratore ci sta lavorando tanto anche su tutti i suoi aspetti adesso so che è rinfortunato però è un giocatore che ha tante qualità è veloce è fantasioso sfida e coraggioso e poi parlando anche del piede forse la caratteristica migliore che ha questo questo sinistro potentissimo l'anno scorso ci trova delle tusse di 50 metri con l'under 20 no è un giocatore che sicuramente può arrivare quest'anno ha fatto per quello che ho visto io molto bene alle zebbre deve avere un po di pazienza come tutti perché quelle tali scalpitano se non giocano una partita hanno il muso si arrabbiano bisogna avere un po di pazienza stargli un po dietro ma lori può arrivare sicuramente probabilmente scalpitano massimo anche perché si chiedono magari una volta ogni tanto se quella scelta è stata la scelta migliore perché quando comunque hai 19 anni tu vuoi giocare a rugby se ti ricordi tu probabilmente a quell'età magari saresti impazzito a stare una stagione tutta in panchina e allora ti chiedo il percorso che è stato disegnato per questi ragazzi visto che tu li vedi ogni anno passare di lì e quello corretto quello che stiamo facendo adesso cambierà non cambierà perché abbiamo visto appunto tanti giocatori non essendoci lo urc under 23 non permettendo alle squadre di urc di avere la seconda squadra come danni chiede ad esempio treviso insomma stanno lì parcheggiati qualcuno ogni tanto va in top 10 però quest'anno gli hanno levato anche quest'opzione quindi ad esempio un genovese non ha praticamente giocato niente ma non è l'unico ce ne sono anche altri Sì è la domanda più difficile da rispondere perché i percorsi ci sono vanno contestalizzati insieme vanno creati insieme questi ragazzi vanno aiutati tutti insieme non solo da parte della federazione anche dai club c'è stata così qualche non voglio dire hanno torto ragione qualcun altro dobbiamo lavorare per una cosa sola per questi ragazzi che arrivano alla nazionale poi ognuno ha il suo interesse che può essere il club la nazionale la franchigia però tutti dobbiamo sapere che alla fine la nazionale va salvaguardata va aiutata perché è il nostro specchio è il nostro orgoglio ma anche la nostra fonte perché dobbiamo nasconderci sappiamo da dove arrivano le risorse e per mantenerci a questo livello abbiamo assolutamente bisogno di una nazionale forte tutti dobbiamo cercare di aiutare perché arrivi a performare al meglio perché già quest'anno con queste buone prestazioni cambiamo un po' il volto anche del modo di pensare degli altri e se avessimo anche la fortuna di avere qualche vittoria cambierebbe di molto anche sì quest'anno qualcuna l'abbiamo avuta l'anno scorso a Cardiff con l'Australia però probabilmente non basta perché poi è facile abituarsi alle vittorie non ci siamo abituati assolutamente però insomma diciamo che dopo 3-4 sconfitte subito giustamente la gente guarda proprio oggi ho fatto una telefonata con un amico che ha detto eh perdiamo sempre uno un po' fuori dal rugby però alla fine bastano 3-4 vittorie arrivano due articoli sui giornali mainstream che parlano di cucchiaio di legno e si fa presto a tornare a essere la solita e sì assolutamente su questo Luciano mi chiedeva se i giocatori di quest'annata hanno già più o meno tutti chiaro il loro futuro cioè se avete se state lavorando con loro sì sì su tanti quelli sia quelli che escono chi resterà con noi per il secondo anno è stato così individuato un percorso più adatto ad ogni giocatore poi ripeto c'è un coordinatore del settore giovanile che è German Fernandez che sta dietro a questa cosa e sta cercando di collaborare con i club, le franchigie perché per cercare di dare spazio per capire se avranno spazio perché è inutile dire un giocatore va a treviso, alle zero se poi non gioca o a cinque stranieri davanti e sappiamo che poi sarà difficile che giochi ecco bisogna individuare questo tipo individuare il percorso, condividerlo con club o franchigia e poi aspettare che crescano perché come dicevi te alla fine il gioco è quello che premia è quello che aiuta la crescita del giocatore se non giochi è proprio problematico poi riconoscere le situazioni in campo se non le vivi io dico sempre l'esperienza si chiama esperienza perché la devi sperimentare non è che la puoi comprare al supermercato se no si chiamava in un'altra maniera allora Tommaso, ciao Tommaso che tra l'altro un tuo collega è un allenatore all'interno del Benetton nelle giovanili con le Red Panthers chiede per creare il tuo gioco a cosa dai priorità tra la filosofia di gioco e i giocatori che hai a disposizione e gli obiettivi domanda difficilissima questa allora le tre diciamo le tre componenti la tua filosofia il materiale che hai a disposizione e gli obiettivi che ti dà poi in questo caso la federazione nel suo caso la società come bilanci questa cosa? o viene spontanea? no prima di tutto sì un allenatore deve avere una filosofia un'idea di gioco e poi in base a quella devi capire anche il materiale che hai a disposizione quindi cerchi di farlo nel meglio possibile senza stravolgere troppo la tua filosofia però cercando un po' anche di adattare caratteristiche ai giocatori a un giocatore anche perché poi Massimo scusa se intervengo un secondo più velocissimo tu allenando una nazionale cioè non è come nel club dove eventualmente te li puoi scegliere diceva andiamo a cercare un flanker di quel livello lì andiamo a cercare una cosa esattamente poi cambia ogni anno quindi non è che un anno hai risoli che non so fortissimi mischi e chiuse poi corre con un matto un anno hai un altro giocatore che magari corre un po' meno non è questo il caso perché quest'anno avevamo Aminu che correva tantissimo però può succedere che oppure hai un giocatore non so un'apertura che attacca più la linea l'altro sta più profondo gioca più al piede quindi ogni anno variano però cerchiamo sempre di avere una filosofia come staff come idea di gioco da dare ai giocatori poi cerchiamo di adattarlo magari più o meno alle caratteristiche che abbiamo nelle varie zone del campo cerchiamo di strutturare a me non piace tanto il gioco strutturato quindi cerchiamo di strutturare meno ma che siano più interpreti della situazione e poi basta e poi si cerca sempre di fare il meglio possibile perché l'obiettivo in under 20 è sì vincere o avere un vincere sempre un particolare essere competitivi essere lì per giocarsela fino alla fine però l'obiettivo è anche dar spazio ai ragazzi di poter esprimersi chiaramente chi secondo noi merita di averlo fantastico grazie andiamo poi c'era una seconda parte di quella di Tommaso però credo che tu gli abbia già risposto perché Tommaso diceva l'ordine cambia a seconda di allenare un under con i giocatori che cambiano ogni anno e una seniors dove c'è più tempo per trasformare i giocatori nella direzione che si vorrebbe tra l'altro poi chiude dicendo tra l'altro nipote di Severino credo che sia lui il nipote di Severino un saluto da entrambi è stato un mio collaboratore in Accademia Mogliano grande persona grande personaggio lo abbraccio forte che quindi magari sono l'assieme nipote e nonno che stanno ascoltando bellissima allora ti faccio l'ultima da coach perché non sembra ma questa community è piena anche di allenatori non è che io faccia contenuti troppo tecnici però si vede che sono interessanti e allora c'è Ottavio che ti chiedeva una cosa sulla partita specifica con la Francia e poi andiamo in chiusura se ti va bene sei dieci minuti sì sì tranquillo allora Ottavio chiede rispetto alla partita con la Francia l'atteggiamento nel breakdown difensivo da parte dei francesi ha rallentato tanto il gioco d'attacco con il placatore che si alzava nella zona di azione del mediano di mischia e non rotolava via e non veniva sanzionato dall'arbitro ti chiede ne avete parlato di questa cosa e come eventualmente ci si adatta a questa situazione e poi chiede se come è andata la mediana se forse ci sono eventualmente opzioni diverse rispetto sia a mediano di mischia che a mediano di apertura che con tutta la fiducia sia per battare che per sante è una domanda che è venuta abbastanza ricorrente durante durante questo torneo con la Francia ci sono state queste situazioni nel breakdown difensivo poi abbiamo mandato le clip anche all'arbitro su alcune cose che non erano chiare e devo dire che ci ha dato anche ragione su alcune scelte che ha fatto l'arbitro però ci stanno anche queste cose insomma si cerca di migliorare da parte nostra però dobbiamo fare un po' mea colpa perché il portatore a terra in quella partita ma anche nelle altre è stato un po' il nostro un po' il nostro difetto non lavorava bene quindi il placatore cioè il portatore che non lavorava bene dava la possibilità sempre al placatore o a chi andava a recuperare di mettere le mani e soprattutto poi i sostegni che non soprattutto il sostegno interno che non lavorava bene è quello che fa un po' la differenza e non andava basso non arrivava bene con il timing giusto aspettavamo sempre che mettesse le mani quindi c'è stato un rallentamento e è vero che non siamo riusciti poi a creare tante fasi con la Francia essere quel gioco multifale magari in attacco che può anche andare a squilibrare un po' la difesa però e tra l'altro non è che non sia nelle tue corde perché l'anno scorso invece io mi ricordo un'Italia che lo esprimeva quel tipo di giocolino sì l'abbiamo fatto soprattutto le summer series abbiamo fatto buone partite su quell'aspetto soprattutto in attacco anche lì venivamo dalle sei nazioni abbiamo lavorato tanto quindi confido confido poi ai mondiali di quest'anno di riuscire a fare in questo aspetto in questa fase di gioco meglio e e niente sul discorso nove e dieci io sono uno che seglie il giocatore ci metto un po' perché sono molto riflessivo aspetto tanto seguo i giocatori e secondo me dobbiamo dare fiducia un po' aspettare succede che non dobbiamo farci prendere un po' dall'emotività sbagliare una partita cambiamo subito bisogna avere con i ragazzi bisogna avere molta pazienza santo e secondo me l'anno scorso ha fatto molto bene con l'under 20 quest'anno lo sa anche lui che poteva fare meglio ci sono tante partite che ha fatto bene altre un po' meno ha anche cambiato club ha cambiato nazione quest'anno ha andato a giocare in Francia a Montpellier quindi ci sono tante componenti che dobbiamo anche interpretare capire però c'era c'è stato lui e c'è stato anche nell'ultima partita abbiamo messo Brisighella che è un ragazzo del 2004 che ho visto con la 19 all'inizio dell'anno giocava estremo e siccome nel 2004 c'era anche questo problema del 10 nel 2003 avevamo un secondo 10 che vedevamo sicuro abbiamo iniziato a lavorare con lui che secondo me ha le caratteristiche per farlo un po' alla volta ha preso fiducia è un giocatore che aveva fatto la 18 l'anno scorso però la 20 è un bel salto soprattutto per chi è il primo anno di under 20 l'abbiamo inserito un po' alla volta abbiamo fatto fare qualche partita ha fatto una partita da estremo titolare con il Galles perché mancava mai ha preso fiducia secondo me bene poi abbiamo fatto fare da 10 con la Scozia però sono tutte situazioni che ci vuole un po' di pazienza bisogna lavorarci bisogna crescere bisogna sbagliare perché per crescere bisogna sbagliare per fare esperienza se tutto va bene lo sai benissimo poi che non sono non è dalle cose positive specialmente che impariamo ma sono quelle negative quindi ma poi accade addirittura tra gli adulti che magari un giocatore che uno dice mamma mia e poi improvvisamente succede qualcosa gli cambia il chip mentale e dici chi l'avrebbe mai detto quindi non non mi piace insomma essere emotivo su queste cose cambiare i giocatori in corsa sì qualche volta succede si cambia perché i giocatori in crisi queste cose però sulle situazioni che abbiamo visto ad esempio a 9 Sebastiano Battara è cresciuto tutto durante la competizione è vero che è partito magari qualche errore all'inizio qualche box sbagliato o qualche passare però durante la competizione è cresciuto moltissimo in tutte le due partite secondo me è stato perfetto e anche lì abbiamo poi avuto il problema con le ali e allora Bozzoni che secondo mediano aveva messo ala abbiamo inserito di nuovo un primo anno che è Casiglio a un 2004 sono 3-4 mediani che ci stiamo lavorando poi avevamo anche l'opportunità quest'anno scusa c'è stata l'opportunità quest'anno dell'Under-19 che hanno tre partite qui ad aprile due con il Galles quindi adesso c'è il festival dell'Under-18 poi c'è anche un trittico di partite dell'Under-19 ok sì c'è c'è queste tre partite due con il Galles una con l'Inghilterra Under-19 sono il primo anno Under-20 sono tutti 2004 quindi magari qualche giocatore lo rivedremo avete visto che hanno convocato Gutturi Casiglio quelli che erano con la 20 con noi e chi è che li allena? li allena Paolo Grassi con Alberto Chiesa e Luigi Ferraro però credo avevamo questa opportunità di vedere anche i giocatori a questo livello e quindi potevamo usufruire più 2003 2004 li vediamo in queste tre partite abbiamo possibilità così di vederli a questo livello di fare una selezione più ampia e magari per i mondiali fare qualche altro inserimento ecco da sto punto di vista un'altra cosa che ha messo un po' in ansia il mondo del rugby è stato però io sono curioso di vedere l'Under 18 adesso nel festival però è stato il debutto diciamo che se ne sono presi 70 dalla Francia o giù di lì e uno dice mamma mia probabilmente quello che stiamo vedendo in Under 20 sarà una tantum e quando arriva questa generazione sarà molto più complicato tu immagino che abbia anche un occhio sul futuro no? come lo vedi il futuro? ma no non bisogna neanche il futuro solo dell'Under 20 il futuro del rugby italiano sì no è che quando succedono queste batoste dobbiamo capire che non è magari solo colpa dei ragazzi capito di quella nata lì che non devono sentirsi così schiacciati adesso io ho visto la partita ed ero la Francia ho visto una Francia fortissima con competenze altissime in tutti i ruoli un 10 che poteva giocare con i signores benissimo fisici davanti quindi bisogna vedere anche con chi avversari si incontrano adesso hanno questo questo festival che serve un po' per scoprire anche i ragazzi metterli a confronto le squadre mi sembra che abbiano Francia e Inghilterra le prime due partite quindi sono molto testanti non diamogli subito giudizi affrettati aspettiamo un po' che sviluppino anche loro le loro competenze a questo livello perché ci vuole ci vuole tempo e poi i giudizi li diamo a fine annata certo certo ricordandosi sempre non solo a fine al 18 magari ripetiamo anche la 19 la 20 esatto cioè poi quando si parla di giudizi io dico sempre io cerco di dare sempre opinioni ma i giudizi perché già è difficile già è difficile dare un'opinione figurati dare un giudizio insomma e poi con ragazzi di 18 anni ancora ancora di più ancora di più no perché spesso in Italia sai come facciamo presto a fare a fare fenomeni questo è fortissimo questo lo sento tante volte no questo veramente e poi siamo anche molto bravi questo è troppo scarso non arriva nessuna parte è difficile è difficile soprattutto con i ragazzi ho visto giocatori che poi hanno tempi di maturazione diversi uno dall'altro quindi non aspettiamo che magari uno non fa la 20 io faccio sempre un esempio su me stesso io ero in settore giovanile ero il più bravo di tutti giocavo numero 10 ero in under 17 giocavo un anno prima mi facevano capitano sono andato in 19 ero forte e ho fatto 9 presenze nazionali altri giocatori tipo faccio un esempio giovannelli che poi è stato il mio capitano lo convocavano non lo convocavano ha iniziato tardi lui quindi quasi magari si è vero che ha iniziato un po' tardi però ha sempre fatto un po' le giovanili ma non era quasi mai titolare giocava pochissimo e poi ha fatto dico 50 per non dire non so quante presenze ha fatto ma guarda ti dico un'altra cosa che io dico sempre cioè ci sono dei giocatori anche in NBA nel basket anche perché poi lì essendo che ci discorso dell'altezza che a volte a 19 anni non avevano neanche iniziato a giocare cioè magari ci sono dei ragazzi che adesso a 18 a 17 non hanno nemmeno ancora iniziato a giocare e magari arriveranno in nazionale è ovvio che sono dei casi molto molto limite però esistono esistono sì ma magari che adesso questo è il caso limite che non giocano e poi dovranno in nazionale però che magari sono giocatori medi o mediocre o qualcuno poi hanno un salto di qualità diverso trovano il modo per esprimersi magari in un club fanno cose meravigliose insomma ci sono tanti casi che ho visto che magari a 19 20 anni non erano fenomeni e poi lo sono diventati più avanti certo ce n'è un'ultima che ti devo fare perché è già ricorsa tre quattro volte mi hanno chiesto più di uno in chat compreso Gianluca Orsi il discorso delle categorie pari dispari io ti dico che non ne ho la più palida idea non vivendo in Italia non so quanto questo influisca sullo sviluppo proprio zero assoluto che cosa cambia e se cambia che cosa comporta se devo esserci sincero neanche io è una cosa che gestiscono la FIRA sull'alto livello con i coordinatori dei settori giovanili non entro nel merito perché non conosco bene la materia si conosco che cambiano le annate che vanno e che vengono sì ad esempio il 2005 che sarebbe l'anno 18 di quest'anno adesso usciranno completamente e vanno a giocare subito nei seniors quindi è un'annata un po' penalizzata da questo ecco ci sono delle annate che vengono penalizzate da questi salti di categorie perché il prossimo anno ci sarà mi pare l'ultimo anno sarà il 2006 che posso fare i rientranti e quindi diventa difficile per certe annate però non chiedermi il perché perché non saprei rispondere ok bene allora io andrei in conclusione proprio una generica su un sogno che immagino voi tutti in questo momento avrete Massimo soprattutto i ragazzi ma magari anche te il mondiale torna finalmente il mondiale dell'under 20 che cosa ci possiamo aspettare da questa nazionale e insomma come lo stanno vivendo i ragazzi c'era chiara un'altra chiara chiara no senso che chiedeva anche come vivono gli allenatori lo stress e come sfoga la stress e la tensione un coach allora qual è il livello di ansia premondiale e che cosa ci aspetta vabbè il mondiale intanto dopo io tre anni che allenano la 20 non l'ho mai fatto ho fatto l'esame del Serie l'anno scorso ma c'è c'è tanta entusiasmo poi veniamo anche da questo sei nazioni con le ultime due vittorie ci hanno dato tanta fiducia il gruppo c'è cementato forte quindi non vediamo l'ora di partire di essere là in Sudafrica nel gruppo c'è Argentina vai vai ripetimelo tu Sudafrica Argentina e Georgia tutte mische leggerine mische leggerine vabbè si divertiranno gli avanti dai sono tre squadre diciamo che fanno del gioco degli avanti la loro forza e mettici anche l'Italia di quest'anno che scornate che vengono fuori no dai a vent'anni vai a fare un mondiale under 20 dopo due anni che non si gioca così dopo aver fatto un buon sei nazioni dove siamo abbiamo trovato l'armonia c'è un bel gruppo i ragazzi si divertono tantissimo quindi non vediamo l'ora di andare là e misurarci abbiamo la prima partita con l'Argentina poi abbiamo Sudafrica l'ultima Georgia speriamo di far bene di esprimere tutto il nostro potenziale che non l'abbiamo ancora fatto secondo me possiamo fare ancora meglio e quindi di riuscire magari a avere qualche buon risultato esprimendo il nostro miglior gioco se facciamo bene le prime partite troviamo fiducia potrebbe rilevarsi una buona cosa poi se finiamo nel girone delle ultime quattro dovremmo anche pensare a salvarci ma come dicevo ai miei collaboratori qualcuno ha detto lo so che mi ha detto è un girone duro sarà difficile io penso che saranno anche gli altri un po' preoccupati di trovare l'Italia in questo momento siamo una squadra fastidiosa dico io perché insomma in mischia in tush abbiamo fatto vedere che siamo forti dietro secondo me non conoscono ancora tutta la nostra potenzialità però siamo fisici diciamo una squadra con della tigna come dicono a Roma quindi è dura ci metteremo tutto l'orgoglio italiano per far bene fantastico fantastico noi saremo lì con voi a sostenervi al massimo qualcuno addirittura qua in chat dice spero di riuscire ad andare quindi magari avrete anche qualche tifoso che dall'Italia si sposta per farsi una vacanzetta e si può o magari vive lì non lo so e si porta un bel tricolore insomma speriamo speriamo in bene massimo io ti ringrazio l'ultima domanda con la quale io sempre chiudo è un invito a chiudere gli occhi pensare alla tua strada reggistica da quel primo giorno ad oggi e scegliere un momento un momento è difficile ma un momento che per te è il momento che ti è restato di più nel cuore o nella testa il tuo momento di rugby e raccontarcelo ma un momento ce ne sono tantissimi però il gioco è così devi scegliere Massimo allora 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 selgo selgo l'ultimo il primo ma meglio scegliere l'ultimo che è più fresco che è questo con l'Under 20 quando quando ci siamo abbiamo finito la partita con il Galles che abbiamo raggiunto la prima vittoria eravamo molto felici e guardando negli occhi così i ragazzi mi sono reso conto che che li avevo aiutati a raggiungere un sogno e mi fa quello che mi dà più soddisfazione è vedere loro felici e questo che mi che mi gasa di più essere a fare questo mestiere che bello che bello che bello e detto da uno che ne ha vissuti di momenti di rugby insomma credo che i tuoi ragazzi saranno ben felici ed emozionati a sentirti dire queste parole Massimo io ti ringrazio veramente è stata una chiacchierata piacevolissima il tempo è volato mi scuso per avere sforato l'ora che mi avevi concesso un grande grande grandissimo in bocca al lupo per per guidare questi ragazzi insomma che sono il nostro futuro grazie io ringrazio te ringrazio tutte le persone che mi hanno fatto le domande che ci hanno seguiti io dico sempre che sono un privilegiato fare questo mestiere e avere la fortuna di fare quello che faccio di avere queste soddisfazioni ma vorrei dividerle con tutta il rugby italiano perché questo movimento è piccolo ma possiamo dire la nostra guarda già il fatto che siamo qua in 50 alle 3 del pomeriggio di un giorno lavorativo testimonia che c'è una delle due o in questa community non lavora nessuno oppure oppure c'è tanta passione c'è tanta passione grazie grazie massimo grazie ciao ciao a tutti ciao 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 ciao